Il primo intervento nel biellese da parte di tutte le forze dell'ordine rimane quello delle liti, in particolare tra vicini di casa. Convivenza che diventa sempre più difficile, insofferenza che forse ai tempi del covid si è ulteriormente acuita. Altri due casi nello scorso fine settimana, sedati dagli uomini dell'arma, che hanno scongiurato conseguenze ben più gravi. Ennesimo litigio, quindi tra dirimpettai, scoppiato stavolta nel cuore di Mosso, in Valdilana. Dopo diversi interventi nella stessa giornata, uno dei contendenti, tra l'altro sotto l'evidente effetto di sostanze alcoliche, ha estratto anche un'arma. Urla e minacce, dove uno dei litiganti si è armato di coltello e si è incamminato con fare minaccioso verso l'abitazione del tanto odiato vicino. Anche questa volta, per futili motivi, i carabinieri allertati sono intervenuti prima che l'uomo potesse raggiungere l'interno dell'altra abitazione. Ed ancora una lite curiosa, al confine con la Val Sessera, un uomo ha chiamato le forze dell'ordine a causa del vicino, che a suo dire si era coricato davanti al suo cancello, per una questione di diritto di passaggio. Sul posto si sono portati i carabinieri di zona, che hanno ascoltato entrambe le versioni e spiegato le loro facoltà di legge. In seguito tutti e due gli uomini sono rientrati nei rispettivi domicili.